Torno domattina. Dove vai? Dormo a casa di Susy stanotte. È nuovo, il volantino. Lo chiamano il rapitore. Non lo chiamare così. Non crederai davvero a quella storia. Non può sentirci, non è vero che se lo chiami così ti rapisce. Che scemo! Non è una meraviglia? Serve una mano? Hai visto? Sì. Puoi passarmi il cappello? Sì signore. Io sono un mago part time. Sono palloncini neri quelli. Vuoi vedere un numero di magia? Ho un annuncio da fare. Uno dei nostri studenti, Finney Blake, è stato rapito. E se potessi aiutare la polizia a trovare Finney? Non funziona. Da quando ero piccolo. Urlerò. Ti sfigurerò la faccia. Questa faccia? No. Papà, io l'ho sognato. Che accadeva nel sogno? L'hanno preso. Un uomo con i palloncini neri? Sì. Non abbiamo mai divulgato quei dettagli. Pronto. Non attaccare. Chi sei? Conosci i nostri nomi. Te ne andrai da qui. Per favore, fa che i sogni siano veri. Guarda il muro. Ho strappato un lungo cavo da là. C'è un lucchetto a combinazioni nella porta di sicurezza. Qual è la combinazione? L'ho incisa sul muro. Attacca il telefono! Ora! L'albero, la porta, il cancello. Non l'ho mai visto tranne che nel sogno. Non hai molto tempo. Userai un'arma. Alza il telefono, fa un passo indietro e colpisci. Che cosa mi hai fatto fare? Spregatevi! Ricordi che ti ho detto che un giorno dovrò difendermi da solo. Quel giorno è oggi, Finn. Chiun evil. Riodo e occupi! Chiun vivла mentalmente per favore, Chiun vivono se rega che dice io. Sei nau secolo entibili enthusiasm! B люди e cloni,